Grazie Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 Ok. Grazie. Ok. Grazie a tutti. Ok. 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 Stoppa. Ok. 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 che posso vedere cosa succede dal monitor lì sopra, mi sposto appena appena ok, adesso puoi fermarti perché faccio scendere io riprendo si, si, la si è appoggiato prima ok, fermarti vai aspetta, fermarti un po' allarga, 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 allarga bene no, no, devo farci stare anche il nero dopo va bene, adesso prendo il rullo no, no, non puoi scusa, non puoi girarlo per mettere il nero, farlo dietro nel caso? no no, faccio poi in parte lì basta, così va bene lì vai vai, vai su cliché si, che poi se i colori ovviamente sono quello che sono si stendono male si, guarda che è così solido il colore fa schifo beh, glielo scriverai, glielo dirai grazie a tutti buona, ferma, scura vediamo se lo riprendiamo e poi scegliamo quella migliore piano, 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 vai piano sono quei rumorini lì che mi lasciano sempre... è la carta, ne? si, si, si ok cioè adesso si è al contrario, ma si così, ne? ops va bene ok allora questo è venuto molto meglio con il colore sai sembrava quasi nuovo questo qua con il colore ne? vado? vai vai i bambini diventerebbero mate per un lavoro del genere ciao possiamo fare un incontro con tutti i bambini scuole elementari e asili vai vai ok vieni dietro a fare una carrellata sulla macchina sul lavoro montato perfetto così va bene adesso intervengo io che stacco il io vado qua verso la portone così ti prendo da di qui basta? basta grazie a tutti i bambini di qui 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 grazie a tutti i bambini di qui